E' stata una serata di faccia a faccia, un momento per dirsi negli occhi cose fin'oggi non dette e smentire quelle lette sui giornali. Gattuso per ora non è in discussione. Ad affermarlo davanti la squadra e al tecnico è stato il presidente dell'Aurentis, che ieri in sera, insieme alla Di Chiavelli e al figlio Eduardo, si è recato nella sede del ritiro azzurro all'hotel Britannic. Una presenza importante, quella del numero uno, che ha voluto allontanare Benitez, Allegri, Mazzarri e Spalletti dalla panchina del Napoli, confermando la fiducia nel tecnico campione del mondo. Stessa fiducia accordata anche alla squadra, che da stasera fino in avanti dovrà correre per recuperare il gap in campionato e non perdere più gare come quella di domenica scorsa a Verona. Non solo fiducia, ma anche il pagamento degli ultimi stipendi. De Laurentis poi si è trattenuto a cena con allenatore e ha comunicato di aver pagato le pendenze 2020. E in serata poi, secondo faccia a faccia, questa volta soltanto per Insigne Gattuso, con i tifosi giunti all'esterno dell'albergo, per dire la loro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. .